Wow 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 amici appassionati di gaming benvenuti sul canale del duca il canale insano del duca oggi è il giorno della finalissima dei campionati mondiali femminili e c'è italia germania l'attenzione alle stelle ragazzi l'attenzione alle stelle andiamo a giocare la finale tanto attesa tanto cercata ma anche sto qua l'undici loro è veramente imbarazzante dici nostra invece sempre una bella ragazza italia germania quindi un classicissimo lo schema patata con mauro gabbiadini mauro si è un po fermato semifinale quarti di finale l'ha più segnato gabbiadini invece si e poi quando subentra è ottima anche la nostra subentrante che si chiama comunque ok girelli cernoia insomma i soliti solite noti giuliano in porta che ci ha fatto passare grazie alle sue due parate ai rigori nei quarti di finale ma ora è tempo della finalissima andiamo a giocarla la tensione si taglia veramente con il coltello queste cazzate sorelle d'italia l'italia sedesta dell'elmo di scipio secinta la testa dov'è la vittoria deporga la chioma che schiava di roma iddio la creò sorelle d'italia l'italia sedesta dell'elmo di scipio secinta la testa dov'è la vittoria deporga la chioma che schiava di roma iddio la creò stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'italia chiamo stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'italia chiamo se ma gama non può essere italiano è italiano gama da gama basta tu non devi toccare la palla con i piedi con tutto il resto insieme con i piedi no tensione veramente alle stelle raga stadio a steca tra l'altro se non era lo stadio che ha ospitato il famoso Italia Germania 4 a 3 eccola c'è l'inno che cazzo vai ci siamo la finale ci siamo ragazzi non possiamo più fallire la finale buona no meritavo qualcosa in più classico 4 4 2 questa è la formazione delle ragazze tedesche quest'oggi che è formazione delle tedesche tutti i uomini della D2R nostra eh buona subito a curare lì bravo Mauro bravo buona ha sciampagnato ma no dove cazzo l'hai tirata calcio sciampagna da giusi malato giusi malato invochiamola che è sempre portato bene ma non è fallo eh oh madonna sono già vicini all'area sono già vicinissimi perdono palla dopo l'intervento di un difensore no sono ancora qua cosa fa questo? da prenderti ho trovato che miracolo ho trovato che miracolo il portiere Giuliani San Giuliani San Giuliani intercedi per noi stiamo rischendo troppo stiamo rischendo troppo raga portiere buona non è che solo ma cazzo quella devo fare il contropiede invece invece no ma co sei lì raga stanno un pendicoglioni sta Germania eh lo dico già guarda la gama no una volta giusta taglia mettiti lì mettiti lì su quella non c'è la gama ecco lo sapevo puttana di quella lo sapevo ma cos'è che fa? si è bruttata è decisamente favorevole questa non le spelle ma no senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo molto vicino al rosso cos'è che fanno lo schemino? non ci credo anche lo schemino lo spoglio indietro brava nostra oh madonna stiamo subendo come le bestie la Germania raga come le bestie stiamo subendo la Germania cazzo come giocano questo è fuori gioco però madonna madonna come subiamo la Germania bisogna cambiare schema qua bisogna cambiare schema madonna veramente come giocano provo a sorprenderlo nessun problema per il portiere vediamo come stiamo subendo buona buona un'ottima serie di passaggi occhio al traversone cross che viene ben intercettato perché lì? ma Cristoforo Colombino no l'ha fatto anche col politacco ma cos'è sarà migra fallo questo qua? Kessler i gemelli Kessler anticipa però Kessler ma no ma questo qua è un madonna mi viene sguoso ok no c'è a posto bravo 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 rincoglionito bravo madonna come giocano queste fuori 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 niente 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 fuori 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 buon intervento difensivo sul cross ma perché non gliela dai là maledette maledette palla madonna se passa lì sono in porta praticamente se passa lì sono in porta vado in porta io adesso saranno due minuti di recupero merosismo alle stelle è una Germania veramente stellare raga c'è niente da fare non sto vedendo la palla pieno tempo Giappone siamo 0-0 maledetta gabbiadina fai qualcosa dai 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 concentrati concentrate concentrate dai stefano graffi graffi la gama è un pericolo costante per tutti anche per i suoi genitori secondo me ci sono vetri a disposizione il mio dio ecco il tiro e c'è gol e c'è gol sul passaggio filtrate della gama incredibile incredibile sul passaggio fintante della gama credo voglio rivedere ho subito tutta la partita della Germania non ti importa la rete e chi è questa qua è un uomo anche lei però come Mauro vediamo no non credo sia la gama no forse la Mauro è questa qua bello 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 bravo Gabbiano palo goal tra l'altro ok perfetto allora adesso dobbiamo farci difensiva ultra difensiva contropiede per riguardo il possesso del pallone da parte delle due squadre la differenza la fa il modo che si chiama la palla buona il signore buonissima raga controlliamo sta cazzo di partita girelli buona che pallaccia però però il portiere va a farla cagare va a farla cazzata bravo 75 esimo cazzi mentre quella lì era già munita se sbaglio l'intervento sono fottuto ma detezione ma cos'è che fa ma basta continuano a tuffarsi cazzo ha munito qualcuno adesso non c'è qualcuno deve fare soluzioni no non ha munito ok no aspetta soluzioni facciamo che sono distrutte facciamo uscire il gabbiano che ha munito buona zea che questa segna se gli capita questa la stracchi per forza facciamo uscire anche la rosucci che lì davanti alla difesa serve gente che legna dai 77 esimo un quarto d'ora alla vittoria del cantatore del mondo raga non ci credo no adesso la sponuzione è brutta no non è valida la sponuzione alusci grande alusci oh madonna buona ma che vado ma vai dentro rigolo ma doooi ma doooi ok tenemola lì ok ok doooi che ancora si è spaccata la la mauro madonna mi è sempre spaccata ma che cazzo fai io ho visto rigorissimo l'impido ma che legnata che ho tirato in tribuna adesso qua facciamo difensivissima raga dove è che si vede ultradifensiva poi mauro oh ok stai aprendo lì Kramer Kramer contro Kramer cazzo brava buona cazzo Mauro mauro fai qualcosa ogni tanto cazzo sei l'unico uomo dentro ma no vai bravo mauro lotta che si è spaccato tutto bravo mauro lotta che si è spaccato tutto bravo mauro lotta 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 mauro siamo i campioni del mondo siamo i campioni del mondo ce l'ho fatta non ci credo e andiamo campioni del mondo raga e andiamo giocare bene e vincere le partite che tentano un tiro in porta che mi hanno fatto perché tutta la partita rete saluti la gabbiana alla fine è stata decisiva win raga guardate qua che tutti sotto la doccia col mister girelli Eusebio Cernoia fantastica squadra ragazzi fantastica squadra ce l'abbiamo fatta quindi l'obiettivo su questo canale alternativo del Duca è stato raggiunto assolutamente a livello della prima azione buona 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 campioni raga e quindi ringrazio il finale che commette le visualizzazioni da un Duca vincente un Duca veramente contento di questa grandissima vittoria e adesso tutti sotto la doccia col mister a festeggiare questa vittoria un saluto alla prossima ciao e poi si parte con Art of Stone per 12 e 3 grazie a tutti